Ok, allora Francesco Di Pitondo, sicuramente per l'azienda ATF ma anche per Valsamo Patrizia come persona ha avuto un ruolo importante in questi ultimi anni, il semplice fatto che è riuscito a far visualizzare parliamo di Valsamo Patrizia, è riuscito a farmi visualizzare quella che è la mia personalità e il mio modo di relazionarmi con gli altri, chiaramente questo incide sia nella vita personale che in quella lavorativa e se è vero anche che non è che si cambia con un corso o con due o con tre sicuramente però si è ben chiaro alla fine dei suoi corsi, si è ben chiaro quali sono gli errori che uno commette poi magari non riesce a correggerli però quantomeno ci prova.